Domandina, come entriamo nella caverna? Abbiamo un altro problema. Mi esoterica, sono nella jet carretta. Io non vedo nessuno. Si stanno nascondendo tra le due dimensioni e ci osservano. Potrei stenderli. Pessima idea. Se non vogliamo altri guai, è meglio che continui a bloccare il portellone. Però uscire e avere più spazio per combattere non è sbagliato. Hai vinto. Ora va meglio. Non direi. Gli esoterica ci seguono. Dici dove sono, ci pensiamo noi. Ma non farete in tempo. Appaiono e scompaiono. Sono troppo veloci. Ragazzi. Hai detto veloci? Dove sono? Vicino. All'ala. Dai, Gwen, continua. Uno è alla sinistra di Kevin. Davanti! Indietro! Davanti a me! Sinistra! Ancora sinistra! Ciao. Era l'ultimo. Ci hai messo troppo. Su, andiamo al sigillo. Ci metteremo un secolo per passare tra i combattenti. Anche no. Dai, seguitemi. Andiamo! Così ci vuole troppo. Se andiamo di questo passo raggiungeremo la caverna tra un anno. Non sto andando alla caverna. Non vorrei catapultarlo. Salta su, fratello. Non ha di usare rotolone? Vediamo. Cinture allacciate? No. Ottimo. Ora che ci penso? Potevo teletrasportarlo.